Ciao e benvenuti in questo nuovo video in cui voglio spiegarvi come fare la giusta prova per capire se la coltivazione di zafferano fa per voi, se vi piace e se il bulbo cresce bene nel vostro terreno. Come ho spiegato più volte non esiste un terreno perfetto per la coltivazione di zafferano ma dobbiamo essere noi ad analizzare tutte le caratteristiche del nostro terreno per sapere come adattarci il miglior tipo di impianto. Affidarsi quindi a mani esperte all'inizio quando si inizia a coltivare zafferano è la cosa fondamentale perché altrimenti andreste andreste ad impiantare il vostro zafferano all'interno del vostro campo senza sapere esattamente tipo a che distanza mettere i bulbi, a quale profondità, perché, per come, come evitare il ristagno idrico, quali sono i sistemi sostenibili che si possono utilizzare e quindi poi come valutare anche la qualità della vostra spezia. Facendo una prova quindi per sentito dire o guardando delle informazioni cercate un po' casualmente online, arriverai quindi ad ottenere sì dello zafferano ma non capirai realmente la qualità del tuo prodotto e soprattutto fino a che poi non andrai ad effettuare l'espianto e quindi passerà un anno di tempo da quando hai piantato la prima volta lo zafferano, non ti renderai neanche conto se la riproduzione è avvenuta nel modo corretto, non ti renderai conto quindi se i bulbi stanno bene, se sono stati colpiti da patogeni, quindi non ti renderai conto di molte cose che ti avranno fatto fare quindi un investimento inutile perché magari poi hai sbagliato qualcosa e non puoi rendertene neanche conto. Mettersi quindi in mano ad esperti che ti aiutano realmente nella coltivazione, per prima cosa fornendoti dei bulbi di alta qualità e quindi dicendoti anche, aiutandoti nel mettere il miglior tipo di impianto, mettere i bulbi alla giusta distanza, alla giusta profondità eccetera, ti permetterà quindi di avere poi già da subito dei parametri certi di riferimento per capire la reale qualità del tuo prodotto e quindi se poi ti piace la coltivazione, se vuoi continuarla, se vuoi ampliarla e tutto il resto. In conclusione quindi fare una prova per coltivare zafferano è una delle scelte comunque migliori che si può fare per capire realmente quanto ti può piacere la coltivazione, se fa per te, il tempo che ti può richiedere e tutto, ma il requisito fondamentale è di affiancarci un percorso di formazione che ti permette di capire quindi tutto quello che ti ho spiegato in questo video e che quindi ti darà dei risultati certi da analizzare per capire poi quanto ampliare, se vuoi ampliare la tua coltivazione.